Intanto il Presidente Napolitano lascia la tribuna d'onore, credo, per andare poi a raggiungere i ragazzi dell'oppogliatoio, tutti fissati in trionfo sulle note dell'Aira. Ma io credo che veramente, adesso lo si dice sempre quando mi dice se la sono meritata, ma secondo me questa volta è proprio così, perché sono partiti insolventi.